Vera parliamo di qualcosa che invece di pratico ne ha parecchio perché è forse una delle principali cause della paura di esporci sui social, i famosi trolls o haters che siano disturbatori, adesso poi i termini si sprecano, forse sono diversi tra loro perché non so se c'è una differenza di definizione. Ok che cavolo faccio io con queste persone che comunque arriveranno? C'è chi dice ah quando cominciano ad arrivare un buon segno significa che stai insomma ti stai facendo conoscere non è mai piacevole al di là che sia un buon segno, l'ho sperimentato sulla mia pelle e ovviamente c'è chi lo sperimenta a livelli molto molto più ampi. Allora partiamo prima di tutto da dove arrivano troll e hater, arrivano da posti diversi, allora di solito il troll è abbastanza esperto della rete cioè è un espertone che si diverte a creare scompiglio. Quindi il troll classico vi faccio un esempio entra in un gruppo facebook di vegani e come prima cosa dice io la fiorentina la mangio al sangue. Allora è chiaro che lì no? E poi tutto e ha queste reazioni in consulte e lui gongola e si diverte e poi carica ancora. E questo è un po' il modello del troll ed è un abitante antichissimo della rete cioè anche vent'anni fa quando c'erano i proto social network il matto del villaggio che si divertiva così c'era sempre. E lì ovviamente il consiglio è non cadere nella provocazione cioè una cosa che contraddistingue il troll è che se tu lo lasci andare in escandescenze e non gli dai retta quello alla fine fa la figura del peracottaro cioè del matto che si agita in mezzo alla piazza. Dobbiamo imparare anche a non considerare le provocazioni a volte prima cosa. Gli hater sono un pochino più particolari perché molti sono hater loro malgrado cioè sono persone che stanno male per i cavoli loro, gli girano no? Hanno la luna nera oppure sono malmostose in generale e così via, vanno online e usano l'online come sfogatoio, come vc diciamo così in cui vomitare no? Le loro cose intanto spesso sono leoni da tastiera cioè se tu li incontrassi dal vivo sarebbero proprio docili no? Sono e che sono protetti da si sentono protetti dietro ai loro schermi e quindi si permettono di dire delle cose che magari dal vivo non direbbero no? Mi ricordo che una volta se la presero con Cammy Hawk non so se conosci che le dissero che era bruttissima eccetera eccetera e lei fece tutto un pezzo fra l'altro spiegando che lì per lì chiaramente c'era rimasta male poi noi donne sulla bellezza siamo estremamente suscettibili vabbè insomma siamo esseri umani no? Cioè siamo esseri umani superiori ma siamo esseri umani, scherzo! era una battuta! Allora quando ti arriva l'odio secondo me prima di tutto fatti una domanda cioè da dove arriva? È uno sfogo di una persona che sta male no? Cioè diciamo tu cogli che magari si esprime male in maniera scomposta c'è il momento che gli sei tappata la vena o ti sta criticando su qualcosa su cui magari un fondo di verità c'è. Cioè metti che ti sta dicendo una cosa in cui c'è qualcosa di vero. Allora quello che noi dovremmo riuscire a fare è isolare la parte violenta della frase cioè cretina eccetera lascia stare le offese e concentrarsi nel merito. Nel merito posso rispondere o no? Cioè sei proprio una cretina fai tutti i podcast per donne ricche? Fai conto che qualcuno ti dice una cosa del genere? Allora lascia stare il cretina che è un po' gratuito ma è vero che fai podcast per donne ricche? No ma guarda io affronto no? E poi magari tu puoi mettere dei link e dire ma no io mi occupo di certo figure seo di una società ma anche di fioristi tanto per ritornare no? E guarda ti mando dei link così puoi verificare che è così. Cosa hai fatto? Hai evitato di rispondere all'offesa? che tanto cioè voglio dire che cosa ti porta a rispondere all'offesa e hai risposto nel merito. Quindi questa è una sottocategoria dipende molto da quello che vuole la persona che fa lo hater e questa è la domanda che ci dobbiamo fare cioè vuole disturbare vuole offendermi vuole comunicare al mondo che sta male perché a volte le persone ti insultano ma in realtà ti insultano perché vogliono essere considerate e nel momento in cui tu le consideri le consideri in maniera pacata tipo ma no riparliamone cioè forse posso fare qualcosa meglio spiegami meglio non ho capito improvvisamente tutti quanti riprendono coscienza della reciproca umanità che c'è in ogni relazione anche in quelle a distanza e che tendiamo a dimenticarcene no? Una delle cose che viene spesso detta della rete è che disumanizza ma non occorre la rete cioè uno dei momenti in cui noi siamo più disumani è quando siamo in macchina e in un'altra macchina ci fa quella che a Firenze si dice una sguerguenza cioè una furberia ci taglia la strada ci si tappa la vena ci arrabbiamo fortissimo con l'altra macchina magari ci affianchiamo no ci ingarelliamo poi guardiamo chi c'è nell'altra macchina e vediamo non so il vecchino che guida attaccato al volante la signora con tutti i cagnolini che girano per la macchina e cosa capiamo ma porino sta peggio di me no cioè abbiamo un po questa reazione diciamo vabbè ma perché prendersela il fato se l'hai già presa a sufficienza quindi io io credo che una delle cose sia fermarsi un attimo ignorare l'offesa e concentrarsi se c'è qualcosa su cui possiamo rispondere nel merito oppure no se la risposta è no ignorare basta questo è il mio consiglio ok ignorare significa poi questo dipende dalla piattaforma ma cancellare il messaggio nasconderlo dipende dalla gravità dipende dipende anche se può diventare un problema per te per esempio no cioè se è un'offesa che magari include anche altri allora io lo nasconderei una cosa che io sono riuscita a evitare sempre di fare col profilo della crusca di bloccare le persone perché se tu blocchi uno che sta urlando quello si inventa un altro modo per continuare a urlare cioè si apre un altro profilo e lì si entra in un circolo vizioso dal quale non si esce più quindi o diciamo silenziare cancellare col nascondere quel messaggio lì oppure se è solo che ti stanno dando della cretina lo puoi anche lasciare cioè tra l'altro quando ti sei creato una community di persone che ti vogliono bene spesso saranno i tuoi accoliti diciamo così sarà la tua community a difendere la persona e addirittura potrebbe succedere che tu ti trovi nella nella posizione di difendere chi ti ha offeso cioè ragazzi grazie del supporto mandateci piano a me è successo a volte succede sul mio feed su facebook si vede abbastanza bene ecco fantastico quindi magari ecco questo è un riferimento che metteremo in maniera tale che si possa vedere in tempo reale che cosa significa ipotizziamo che diciamo in questo caso non parliamo né di trolls né di haters ma di recensioni negative io ho un'attività ricevo una recensione negativa sappiamo bene che a volte le recensioni sono assolutamente a volte sono assolutamente fuori luogo mi vengono in mente le più assurde che sono quelle ad esempio su amazon dove magari hai pubblicato un libro con che ne so anche con case editrici importanti amazon l'ha spedito in ritardo ti arriva una stella l'ho visto capitare anche ad autori best seller internazionali e il motivo è il libro è venuto è arrivato con un'orecchia oppure il pacco era danneggiato quindi la recensione in realtà è di amazon questo è un esempio estremo ma si è successo ok ma potrei avere anche un ristorante fare del mio meglio e mi capita una recensione di solito poi cosa succede che difficilmente non lo so è più facile che qualcuno che sia infastidito per un'esperienza vissuta lascia una recensione negativa piuttosto che lascia una recensione positiva che si è trovato bene a meno che non si sia trovato così bene che dice oddio qui la devo lasciare subito quindi di solito ti trovi tra due estremi chi si è trovato benissimo chi si è trovato terribilmente male e chi si è trovato terribilmente male parlo per esempio di hotel appunto di esercizi commerciali di ristoranti ti può veramente affossare cioè nel senso non ti ripigli più se non sai come gestire la cosa come come possiamo gestirla? Allora regola numero 1 calma e sangue freddo nella gestione delle crisi c'è una cosa che si chiama la golden hour che è l'ora immediatamente successiva allo scoppio della crisi e questo funziona sia nella crisi personale ho scritto una cosa con leggerezza online sia in crisi comunicative anche molto complesse cioè fino ad arrivare a donald trump quindi è una cosa assolutamente trasversale e il modo in cui tu imposti il lavoro nell'ora successiva alla crisi determina molto spesso l'andamento poi di tutta la crisi successiva allora prima cosa siamo esseri umani e possiamo sbagliare cioè ognuno di noi può sbagliare e ognuno di noi può trovarsi in una situazione in cui sembra che abbia sbagliato ma magari non ha sbagliato questo delle recensioni è interessante perché io sono sicura che dei miei libri ci sono alcune recensioni che non sono state scritte da chi ha letto il libro ma da chi voleva semplicemente spargere un po' di odio e credo che questo sia qualcosa di inevitabile nel momento in cui noi ci esponiamo e online ci esponiamo tantissimo tanto è vero che Mastroianni appunto il mio autore dice dovremmo sostituire il concetto di online con il concetto di in pubblico tutto quello che noi facciamo online alla fine è in pubblico che sia anche ricevere una stroncatura o ricevere un premio è tutto pubblico allora ci sono varie cose che possiamo fare ovviamente se noi abbiamo un esercizio commerciale un bar eccetera eccetera che viene recensito male il problema è che poi le altre persone si basano sulle recensioni no e questo è ovviamente anche giusto così cioè per questo che funziona il sistema delle recensioni allora io tornerei a quello che vi dicevo prima cioè la recensione a qualche fondo di verità sì o no cioè è vero che ha trovato non lo so un capello sul croissant nel mio bar o è falso quella persona è venuta effettivamente o no cioè sta dicendo cose reali o no e se sono cose reali e l'errore mio io chiederei scusa perché una delle grandi risorse che abbiamo è quella di dire è vero ho sbagliato l'altra cosa è se la persona si sta inventando tutto beh la maggior parte dei 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 sistemi recensori dalla possibilità di rispondere alla recensione consiglio di rispondere in tono pacato con quella che io chiamo una quieta assertività cioè senza mai perdere il lume della ragione senza mai insultare l'altra persona e dire ma la sua presenza nel mio locale non mi risulta perché quella sera c'è no uno può andare anche molto nello specifico addirittura depone moltissimo a favore di queste situazioni il rimanere educati fino in fondo comunque la ringrazio di essersi preso la briga di aver lasciato questo commento che mi ha dato magari la possibilità di spiegare una cosa cioè non abbiamo così tanta paura del giudizio altrui intanto se siamo a un inizio cioè se stiamo crescendo è probabile che le critiche siano vere e ce ne dobbiamo prendere e forse il segreto è prendercene cura cioè noi dobbiamo prenderci cura anche di chi non ci sopporta e stando in pubblico una parte che non ci sopporta è naturale che ci sia cioè io un po di tempo fa ho fatto un corso che non avevo mai fatto ho ottenuto un corso che era di public speaking ora è vero che io parlo tanto in pubblico ma non avevo mai pensato di fare un corso su come parlare in pubblico quindi è stato molto interessante anche per me perché ho modellizzato una conoscenza che avevo ma che non avevo mai considerato come una vera conoscenza sai le cose che tu va facile come bere un bicchier d'acqua no poi scopri che uno non lo sa fare e ovviamente io ho un rapporto molto carnale con chi ho di fronte credo anche in questo momento si senta che se potessi entrerai dentro la telecamera figuratevi dal vivo allora io faccio lezione spesso camminando avanti indietro chinandomi sulle persone eccetera molte persone sono rimaste estasiate gli è piaciuto un sacco eccetera alcune hanno detto che si sono sentite attaccate cioè che ero troppo entrante che ero troppo aggressiva ci sono rimasta male certo che sì perché io non mi vedo aggressiva però è vero che quando mi faccio prendere dalle mie cose posso sembrare aggressiva ci ho fatto ragionamento sopra non è che ho pestato i piedi ho detto non è vero non ero aggressiva la maturità sta anche nel dire beh forse per qualcuno per la sensibilità di qualcuno io faccio questo effetto qui ed è giusto che mi venga detto e lo registro e poi in base a quello posso migliorare cioè prendiamo la critica l'odio come una possibilità di miglioramento secondo me la cosa a cui non ci dobbiamo mai abbassare è quella di replicare stizziti violenti insultando l'altro recentemente è successo sul mio feed di due persone che si sono batti beccate e una che è andata a vedere il feed dell'altra persona e poi ha usato informazioni desunte dal profilo dell'altra persona per insultarla cioè una come te non dovrebbe dire certe cose ecco quello è sbagliato perché siamo andati sul personale rimaniamo sul pezzo rimaniamo su quello che ci dobbiamo dire e vedrete che funziona tutto molto meglio ora ripeto una parte di chi ascolta penserà che sia fuffa ma è molto meno fuffa di quanto possa sembrare perché sono cose pratiche l'unica cosa ci dobbiamo togliere dalla testa è la velocità cioè queste sono cose che richiedono un respirone e come dire un'attitudine quasi zen nei confronti della comunicazione la differenza fra fare le cose velocemente e farle di fretta quindi in inglese no be quick not hasty cioè non essere un attimo di paziente un 30 secondi di dire adesso io sono qui e devo fare questo ci sta sempre si e tra l'altro ci permette anche di non reagire d'impulso magari con quella violenza che senti abbiamo voglia di esprimere perché ci sentiamo attaccati e quindi entriamo nella difensiva vera se dovessimo imparare da brand che già esistono là fuori e che stanno facendo un ottimo lavoro di comunicazione magari anche brand molto diversi tra loro così da farci un'idea abbastanza ampia che abbia un range di attività diverse di tipologie di comunicazioni diverse e anche per imparare a capire come loro tengono a bada questo tipo di commenti chi ci suggerisci di seguire sui social è una domandina semplice semplice allora io ho un marchio di abbigliamento che mi piace molto al quale è legata una storia buffa perché quando performo in pubblico indosso sempre un loro capo perché è una specie di cabala si chiama in good company in buona compagnia e loro su instagram li trovate come IGC Asia hanno un tipo di comunicazione abbastanza standard da un punto di vista di abbigliamento quindi mettono foto eccetera eccetera cioè inviti a iniziative particolari eccetera eccetera ma la loro forza è nell'ascoltare la community e quindi se la community dice ma perché non rifate questo vestito in un altro colore e loro dicono ah grazie del suggerimento ci lavoriamo un po' di mesi fa è successo che hanno messo la foto di una modella che sembrava malata da quanto era magra si in realtà poi guardando le altre foto no è che era proprio una foto fatta in un modo che sembrava ancora più magra le persone si sono un po' risentite anche perché hanno detto ma normalmente voi siete così attenti alla body consciousness alla body awareness mi sembrava strano e loro non hanno cancellato il post hanno scritto ringraziamo di tutti i commenti noi lasciamo qui questa discussione a memento sia per noi che per voi ma faremo in modo che questo non risucceda più qual è il segreto il segreto è si occupano della community e questo è un po' la cosa che io vedo ricorrere nei profili che a cui sono affezionata cioè non è una comunicazione unidirezionale unidirezionale ma viene sfruttata la bidirezionalità della rete posso promuovere modestamente il profilo twitter dell'accademia della crusca che ovviamente da un punto di vista di contenuti si occupa di lingua italiana quindi ha un target molto molto circoscritto volendo però quello che noi abbiamo fatto io e la mia collega stefania jannizzotto che gestisce facebook quello che abbiamo fatto è prenderci cura della community cioè quando qualcuno ci contesta anche violentamente prendercene cura quando qualcuno ci fa un complimento mettere il cuoricino cioè far sentire che ci siamo e questo è quello che io vedo funzionare addirittura la ferragni che può piacere o non piacere modestamente mi piace però le risposte che lei dà agli hater sono spesso molto argute perché non sono né prese di giro di solito lei chiarisce cioè come fa lei a dire che mio figlio sta sempre con le babysitter vive forse con noi cioè magari anche un po provocatori a volte perché è giusto che a volte ci girino anche cioè siamo esseri umani però quello che io apprezzo di lei è che dall'alto della sua ferragnità comunque alla fine si occupa della sua community o chi per lei però insomma ha creato un sistema poi vabbè uno molto bravo nel dare le risposte agli hater è ovviamente Gianni Morandi che è il padre di tutti noi cioè da questo punto di vista lui con quelle manone che dice un caro saluto è il modo in cui lui sta facendo un'arte lui lui mette in pratica sui social un'arte marziale che è l'aikido no cioè lui fa una sorta di aikido cioè non va mai all'attacco di chi ha di fronte ma lascia che l'impeto della persona che ha di fronte faccia ruzzolare la persona stessa e poi lui fa anche la carezzina come dire guarda ti tiro anche su e questo secondo me è un buon esempio cioè è qualcosa di virtuoso cos'è che secondo me non funziona il il blastare cioè il mettersi una posizione di superiorità e poi da quella dire io sono xy e voi non siete nessuno il lamentarsi il continuare a dire allora io ti denuncio ti querelo perché la gente non ne può più e nemmeno i tribunali ne possono più cioè secondo me noi dobbiamo come dire aspettarci che venga anche il brutto dalla rete ma a imparare prima di tutto a comunicare noi in modo da minimizzare le situazioni in cui debba emergere il brutto della rete infatti scusa vado un po fuori ma io propongo sempre il metodo di rs di come domodosso la r come roma e s come savona che è dubbio riflessione silenzio dubbio rispetto a quello che leggo ho capito bene cioè che può essere ho letto un commento ho capito bene ho letto una notizia ho capito bene perché quello poi imposta tutto quello che faccio dopo noi siamo troppo veloci nel pensare di capire subito quello che leggiamo e questo è il primo difetto riflessione rispetto a quello che io sto per mettere in rete cioè parola nuda fraintendibile permeabile ovvero io metto una cosa in un contesto ma se è succosa quasi sicuramente verrà screenshotata e finirà altrove incontrollabile nel senso che una volta che io metto una roba in rete è ovunque soprattutto se è un errore perché poi noi esseri umani amiamo lapidare gli altri cioè noi esseri umani amiamo beccare l'altro in fallo e esporlo a pubblico ludibrico è una cosa molto umana molto brutta ma è umana quindi sto per scrivere una cosa mi fermo un attimo e dico voglio io vera geno che questa cosa che sto per scrivere vada in rete incontrollabile senza limiti scritta e probabilmente immortale cioè per sempre uno troverà quella cosa legata al mio nome lo voglio davvero cioè questo è il terzo è il silenzio non c'è sempre bisogno di dire la propria noi possiamo in sacco di momenti scegliere di stare zitti ci sono tutti i giorni notizie alle quali vorrei rispondere ma non ho le competenze per farlo lascio correre molto semplicemente e questa tra l'altro è una scelta coraggiosa perché implica l'ammettere di non essere in grado preparati a sufficienza in questo momento per intervenire e questo implica un'umiltà che non sempre siamo abituati ad avere soprattutto in rete esattamente fra l'altro di solito si usa il precetto socratico di sapere di non sapere io un po di tempo fa ho trovato in rete un grafico un grafico a torta che mi è piaciuto tanto è di uno studioso non sa esattamente un blogger americano che si chiama Steve Schwartz e allora è fatta così c'è una fettina sottilissima su questa torta e c'è scritto shit you know cioè le cose che sai ma poi l'americana poi c'è una fettina un pochino più grande che è shit you know you don't know cioè le cose che sai di non sapere tutto il resto della torta è shit you don't know you don't know cioè le cose che nemmeno sai di non sapere allora una delle cose che sono successe con la complessificazione della realtà anche a causa dei nuovi media è che non solo ci sono cose che sappiamo di non sapere ma c'è un mare di roba che nemmeno immaginiamo esista ed è tutta a portata di mano quindi non è strano incontrare una cosa che nemmeno sapevamo di non sapere e questo ci deve per forza far diventare umili perché oggi o diventiamo umili o ci mettiamo perennemente sulla difensiva e viviamo malissimo cioè viviamo continuamente impauriti accerchiati oddio sbaglio vabbè pazienza so di non sapere di non sapere. Vera tu hai detto un paio di volte che probabilmente le cose che dicevi erano un po teoriche poco pratiche io ho preso appunti ce l'ho qua non muovo i miei appunti perché sono sotto il microfono per cui poi si stacca tutto e sappiamo cosa vuol dire quando tocco qualcosa di sbagliato ma ho trovato questa puntata ricchissima non ricca ricchissima di spunti pratici chiaro che poi vanno messi in pratica perché poi credo che la cosa peggiore di non sapere sia imparare poi non neanche provarci a mettere in pratica quello che abbiamo assorbito. Vera quale donna pensi dovrei intervistare dopo di te? Viva o morta? Viva sarebbe più facile. Possibilmente viva allora sapevo che arrivava questa domanda e non ci ho pensato perché va bene così dunque chi sarei curioso di sentire io. Allora a me piace molto la direttrice del CERN di Ginevra Fabiola Giannotti che ovviamente io io in una seconda vita volevo fare il Cisico nucleare quindi ho un po questa fissazione e più diciamo nell'immediato più nel da vicino forse ora mi sfugge anche nome no eccola Giulia Blasi non so se l'avete già intervistata. No non ancora. Che è scrittrice femminista e il suo ultimo libro si chiama manuale per ragazze rivoluzionarie è tutto un trattato sul femminismo sul quale non sono sempre d'accordo ma secondo me è importante da leggere perché dà un bellissimo spaccato della situazione attuale del femminismo in Italia quindi ecco questi sono i miei nomi. Vera grazie per gli spunti e grazie per il tempo perché c'eravamo date 40 minuti ma io avevo già detto a vera secondo me sforiamo e io ti lascio sforare alla grande se siamo in questo fiume in piena di spunti pratici perché poi è l'idea e la mission che sta dietro questo questo progetto. Io ragazze in ascolto vi ricordo che qui sotto la puntata se state guardando o ascoltando la puntata dal sito web potete tranquillamente riguardare punto per punto il minutaggio preciso dei temi che abbiamo affrontato in maniera tale che possiate direttamente andare alla parte che vi interessa ripassare. Vi invito anche naturalmente a condividere nello spazio dedicato ai commenti qual è l'idea più importante che avete acquisito da questa conversazione con Vera e quella che metterete in pratica nello sviluppo della comunicazione del vostro brand e vi invito anche non so se questo fa parte delle regole del bonton della comunicazione a mettere 5 stelle se state ascoltando il podcast da speaker, spotify, itunes o qualunque altra piattaforma sia venuta fuori che ne escono come funghi dove state ascoltando questo podcast. Mi raccomando era era giusta come comunicazione vera sono rientrata nelle regole non era una marchetta. Era molto carina dai poi noi siamo carine no quindi voglio dire grazie. E anche i commenti poi se avrò modo io posso sempre rispondere. Assolutamente. Presto anche a questo. Grazie ancora Vera per essere stata con noi è stato bellissimo. Grazie grazie a voi grazie. Questo è tutto per la puntata di oggi spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy puoi farlo visitando il sito biz-academy.it. Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.